buongiorno a tutti ragazzi benvenuti a questa lettura per il segno dell'ariete è una lettura generica quindi se non risuona con tutti guardate quelle del vostro ascendente o della vostra luna e per avere invece una sessione privata con me potete andare o sul sito internet e fare tutto da soli prenotando dal calendario il giorno e l'ora che preferite o in alternativa inviate una email la mia assistente vi farà tutto al posto vostro e per diventare miei studenti stessa cosa perché potete dare un'occhiata sul sito ai programmi ai corsi disponibili potete scrivervi direttamente da lì a meno che non volete una rateizzazione e allora in quel caso potete scrivere ad angela oppure se avete bisogno di altri metodi di pagamento anche in questo caso angela vi dirà come fare ma cominciamo prendiamo una carta angelica per il segno dell'ariete e vediamo un po che cosa sta succedendo questo mese il carro come energia generale quindi c'è movimento c'è una sicuramente c'è una sorta di evoluzione in atto questo nella vita privata dei nostri ariete e riguarda sia le coppie che i single quindi il carro parla di evoluzione parla di situazioni che cambiano ma parla soprattutto di noi che cambiamo noi stessi inoltre è una carta che ci parla anche del fatto che abbiamo una certa sicurezza in noi stessi sappiamo dove andare magari per l'ariete questo è anche abbastanza tipico perché gli ariete proprio come segno come caratteristiche del segno sono molto diretti e vanno proprio a sbattere contro i muri certe volte di quanto sono diretti per quanto sono diretti però ecco in questo mese sarà sicuramente un'energia ancora più forte ancora più decisa più marcata e quindi ecco che il movimento sarà la parola d'ordine il progredire l'avanzare il crescere perché di questo poi si tratta si tratta di crescere e di fare quei cambiamenti interiori che ci portano a ritrovare la nostra vera natura infatti il carro come spiego sempre ai miei studenti viene dopo la carta degli amanti in sequenza si trova appunto dopo l'arcano maggiore numero 6 perché se gli amanti sono la scelta il carro è l'andare verso la scelta quindi probabilmente nei mesi precedenti abbiamo preso delle decisioni abbiamo capito cosa volevamo abbiamo deciso come farlo e adesso siamo finalmente pronti ad andare verso le nostre decisioni verso noi stessi potrebbe appunto trattarsi semplicemente di un decidere di manifestare noi stessi e quindi farci vedere per quello che siamo davvero oppure di andare avanti verso determinati obiettivi adesso andiamo un po a vedere cosa c'è nelle due singole colonne e vediamo da quale lato vi ritrovate chi sta da questo lato si sente come un 10 di bastoni rovesciato prova la morte desidera il 9 di bastoni si comporta come un cavaliere di coppe rovesciato e ciò che non dice l'otto di coppe rovesciato chi sta dall'altro lato invece si sente come un cavaliere di denari rovesciato prova un 4 di coppe rovesciato desidera il fante di spade agisce come la giustizia rovesciato e ciò che non dice il 7 di spade bene e quanto pare precedentemente a questo mese deve essere accaduto qualcosa per cui queste due persone sono entrate in conflitto fra loro ed ecco che adesso noi vediamo quali sono le conseguenze dei conflitti che ci sono stati o delle difficoltà che ci sono state questo vale sia per chi è in coppia che per chi è single quindi si tratta sicuramente di un momento nel quale abbiamo già fatto chiarezza e adesso semplicemente facciamo i conti con la realtà così com'è ma vediamo invece per chi è in coppia che cosa nella che cosa specificamente sta succedendo io credo che per chi è in coppia la coppia ha subito davvero un po' una battuta d'arresto ultimamente ci sono state delle difficoltà delle ci sono stati dei momenti nei quali il terreno ha vacillato ed ecco che mentre alcuni di voi potrebbero addirittura avere scelto di rompere la vostra coppia e quindi di andare ciascuno per la sua strada altri invece hanno deciso di rimanere insieme di affrontare insieme questo percorso e di vedere appunto dove vi avrebbe portati considerando che sicuramente i momenti che avete attraversato non sono stati facili emotivamente vi hanno davvero messi alla prova e hanno davvero portato a dei cambiamenti perché qualunque cosa sia accaduta questi momenti hanno portato a dei cambiamenti hanno portato a un lasciare andare quelle cose che decisamente non andavano bene il rivedere un po la propria opinione sul proprio partner il rivedere le cose come con un occhio diverso come vi dicevo qualcuno di voi ha deciso proprio di mollare la relazione ed ecco che fra queste persone adesso queste persone stanno facendo davvero i conti col fatto che quando una cosa finisce bisogna poi avere il coraggio di andare avanti e bisogna avere il coraggio di essere decisi forti e di non tornare indietro perché il problema più grave per chi appunto aveva una relazione ma la chiusa e il non tornare indietro entrambi infatti in particolare uno dei due chi si trova a sinistra ha deciso di mollare la presa e ha un fortissimo bisogno di cambiamento perché nonostante sentimenti nonostante comunque ci fosse dentro ci fossero dentro delle cose importanti però ecco non poteva andare dall'altro lato c'è una persona che ha adesso uno dei due ha subito delle ingiustizie quindi si è creato uno squilibrio e questa persona che dovrebbe un attimino cercare di recuperare lo squilibrio creato invece da un lato desidera l'occasione per parlare per chiarire ma dall'altro lato sta evitando il confronto e sta evitando di dire tutta la verità quindi c'è una situazione nella quale uno dei due sa di avere ragione l'altro sa di avere torto ma vuole evitare di dire tutta la verità e vuole evitare discussioni perché non non saprebbe appunto come dirlo non saprebbe cosa fare per quelli di voi invece che in coppia sono riusciti a rimanere insieme però ecco che questo ha portato a tanti cambiamenti come vi dicevo sono cambiate tante cose non è più come prima e adesso la coppia ha necessità assolutamente di trovare una nuova direzione comune di trovare un nuovo senso dello stare insieme perché il senso vecchio non va più bene questo è chiaro uno dei due in particolare non riesce ancora nonostante abbia ancora la possibilità di dimostrarlo non riesce ancora a rimettere le cose al loro posto non riesce a comportarsi in modo coerente e corretto al cento per cento evita certe discussioni però allo stesso tempo cerca l'occasione per dire delle per per farne altre quindi non è nemmeno poco non è nemmeno molto coerente è poco chiaro desidera sicuramente avere un'altra opportunità però allo stesso tempo non non avendo il coraggio di dire tutto non avendo il coraggio di affrontare certi discorsi in modo olimpido è aperto quello che si può fare non è poi così tanto quindi qui c'è davvero bisogno di una spinta e con questa carattà del carro la spinta arriva la spinta verso un cambiamento che è assolutamente necessario necessario perché uno dei due partner si è stancato e sa benissimo che i propri sentimenti non sono stati valorizzati non sono stati curati cioè quando si è in relazione bisognerebbe prendersi cura l'uno dell'altro e invece uno dei due non è stato assolutamente capace di farlo e non solo ma ha anche ha anche tolto valore non è riuscito a valorizzare il tutto ciò che il proprio partner ha fatto e una persona che tiene duro una persona coraggiosa una persona che cerca di dare sempre il massimo e l'altro non riesce a valorizzarlo ecco che questo sicuramente porta a un questo porta a diverse problematiche ed è questa la cosa che deve cambiare necessariamente bisogna superare questa fase e necessariamente bisogna invece passare al tutti e due avere il coraggio di fare ciascuno la propria parte perché se non tutti e due fate la vostra parte parte si rimane sempre con questo squilibrio e con questa incapacità di andare d'accordo e cos'altro si può dire per chi è in coppia beh per chi è in coppia state attenti ragazzi perché se voi siete fra quelli che non si sono mollati ma che continuano a stare insieme sappiate che io non so se siete voi o è l'altro magari me lo commenterete qui sotto però c'è uno dei due che l'unico motivo per cui non se ne va è perché non ha i mezzi per farcela da solo uno dei due non va via perché perché ha paura della solitudine tra virgolette ha paura di ciò che implicherebbe continuare una vita da soli da singolo oppure ricominciare da capo si sente molto insicuro ed è in realtà questo è un grande ostacolo quindi siccome questo non è un buon motivo per rimanere insieme se voi risuonate con questa cosa state molto attenti perché davvero se uno dei due non se ne va solo perché non riesce a stare da solo e magari per questioni di convenienza o di comodità non ci sono davvero le premesse la carta del carro per fortuna porta cambiamenti porta novità porta crescita porta evoluzione quindi ecco che porta l'opportunità di uscire da tutte queste dinamiche l'opportunità di migliorare e di progredire davvero insieme su una linea su un binario comune per chi invece è single qui stiamo parlando di una situazione che non è andata a buon fine di un di un flirt di una storia di un qualcosa che sembrava avere a un certo punto sembrava avere delle opportunità perché sembrava esserci comunque un interesse però poi nei fatti stringi stringi non si è riuscito a concretizzare e a materializzare nulla e adesso invece è un momento nel quale queste due persone sono separate sono lontane e non se la sentono di darsi un'opportunità per stare insieme si tratta sicuramente di due persone che avendo appunto fatto un tentativo di avvicinamento e avendo visto che c'è una assoluta incompatibilità perché non c'è stata compatibilità non c'è stata compatibilità nei comportamenti nel modo di fare nel modo di affrontare la cosa ed ecco che adesso uno dei due ha proprio mollato e non solo ha mollato ma vuole vorrebbe anche avere la certezza di non ricaderci di non sentire il bisogno di tornare indietro e di andare verso questa persona quindi uno dei due spera solamente di riuscire a dimenticare di andare avanti con le dovute ovviamente difficoltà perché ci sono sempre delle difficoltà infatti proprio chi sta da questo lato ha sentito praticamente i suoi sentimenti sono stati feriti quindi non sono stati rispettati sono stati feriti e adesso questa persona desidera davvero essere abbastanza forte da mandare tutto al diavolo e andare avanti con e andare avanti nella vita però c'è sempre ovviamente con l'otto di coppe rovesciato c'è una difficoltà perché quando si provano dei sentimenti non si non basta schioccare le dita per andare oltre dall'altro lato abbiamo una persona che non ha appunto agito con giustizia e non sta agendo con giustizia non sta agendo con equilibrio che sembra nascondere qualcosa o sembra non volere affrontare qualcosa sembra piuttosto preferisce eludere il la sorveglianza cioè preferisce non farsi vedere non farsi trovare a disposizione per una bella chiacchierata preferisce proprio non non agire magari sta aspettando l'occasione per parlare perché comunque qualcosa deve avere preparato cioè come se questa persona si fosse preparata un discorsetto nel caso in cui dovesse affrontare la cosa dovesse confrontarsi con l'altro però se può evitare di farlo e di dire certe cose è meglio e l'interesse c'era anche da parte di questa persona però obiettivamente non non c'è stato il la concretezza non c'è stato non ci sono state non c'è stata coerenza nel comportamento e quindi io credo comunque che uno dei due abbia davvero sbagliato abbia davvero combinato un po un casino adesso vediamo un po che cosa accade nella nell'incrocio diciamo nella combinazione dei diversi segni dello zodiaco con il segno della riete questa parte io dico sempre che è specifica per chi è single ma in realtà consiglio a tutti di guardarla soprattutto se avete a che fare in questo momento è stata interagendo con diverse persone contemporaneamente potreste sicuramente trovarla utile per vedere le varie combinazioni energetiche che si stanno creando inoltre ragazzi vi invito se volete una sessione privata ad andare sul sito internet o a inviarci un email e se volete diventare miei studenti stessa cosa andate sul sito magari date prima un'occhiata ai corsi ai programmi alle opzioni e una volta che avete scelto o vi iscrivete da soli tramite sito oppure inviate una email e angela farà tutto per voi quindi vediamo un po adesso che cosa si sta materializzando nella vostra vita nella nell'incrocio fra voi e i dodici segni dello zodiaco cosa prova per me mi cercherà impara a leggere la sua mente con il metodo maia vediamo un po che cosa succede e ovviamente cominceremo con la combinazione fra due ariete quindi per chi di voi è ariete e ha a che fare con un altro ariete vediamo un po che cosa accade ariete con un altro ariete questa persona uno dei due non riesce a lasciare andare l'altro nonostante tutto quello che è accaduto quindi bisogna vedere bisogna vedere ariete con toro beh vorrebbe un chiarimento il toro vorrebbe un chiarimento il gemelli con il gemelli state per ricevere un qualcosa state per avere un contatto cancro il cancro farebbe di tutto per voi a quanto pare il leone con il leone è un momento di fluttuazioni emotive ci sono alti e bassi con la vergine le promesse sembra che saranno mantenute con la bilancia l'interesse è reciproco per il momento lo scorpione sta prendendo tempo ma si farà sentire il sagittario il sagittario vi pensa in continuazione il capricorno ha paura di voi e non riesce a fidarsi l'acquario desidera qualcosa di più e il pesci non riesce più a sostenere questa situazione così com'è e adesso vediamo un po' qual è il consiglio degli angeli e abbiamo un sette di terra quindi il sette di terra ci parla di dei risultati che possiamo ottenere con il lavoro fatto fino ad oggi e ci dice che comunque in effetti noi abbiamo piantato i nostri semini lo abbiamo fatto con tanta pazienza abbiamo messo quindi le basi per far crescere l'albero dei desideri o comunque per far crescere la pianta che equivale ai nostri desideri noi abbiamo piantato i semi adesso ovviamente vanno innaffiati ci vuole tempo ci vuole pazienza e si tratta di cose che vanno nutrite che non possono semplicemente non si può correre certe dinamiche ovviamente che dipendono dalla natura umana hanno delle tempistiche ben precise tempistiche biologiche fisiologiche psicologiche e non si possono superare queste tempistiche quindi anche se vi sembra magari che dal punto di vista delle azioni fisiche materiali ci sia una pausa questa in realtà non corrisponde a al piano spirituale ai piani spirituali quindi dove invece c'è molto movimento dove appunto c'è come parlavamo prima come dicevamo prima con la carta del carro c'è invece un'energia di grande movimento e di grande evoluzione che potrebbe non corrispondere al piano fisico ma sicuramente rappresenta ciò che accade sui piani spirituali e quindi ciò che si manifesterà presto anche sul piano materiale se avete appunto delle preoccupazioni legate a questo non preoccupatevene sono ingiustificate la carta è chiara la carta angelica è chiara dovete semplicemente stare più sereni avere fiducia in quello che avete fatto soprattutto se voi avete appunto la coscienza pulita e sapete di aver fatto bene e per il resto ragazzi io vi invito ad andare sul sito o a inviarmi un'email e ci vediamo alla prossima ciao